Chiusura in grande stile ieri sera alla Scala per il Festival Milano Musica, uno dei più importanti in Italia per il repertorio di musica contemporanea. Ultimo appuntamento ieri alla Scala di Milano Musica, festival di musica del Novecento alla venticinquesima edizione. Protagonista della rassegna è il compositore francese Gérard Griset, scomparso nel 98 a 52 anni. Autore anche di icon paradoxal per due voci orchestra, eseguito dalla Filarmonica Scaligera. Positivo il bilancio del festival che quest'anno ha proposto 20 concerti e spettacoli di cui 8 prime esecuzioni assolute. Gérard Griset, intonare la luce, un grande festival che si conclude stasera con grandi energie, molto pubblico, tanti giovani, una grande musica che ci ha visto collaborare con le principali istituzioni francesi e con le principali istituzioni milanesi. Io credo molto in questo festival per cui tutti gli anni cercheremo sempre di fare delle cose nuove, delle cose varie, delle cose che interessino le persone. Grazie. 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 Grazie.